ciao a tutti amici in questo video andremo a vedere come ottenere il rub ritter giallo quello che dovete fare è dirigere verso la vostra sala giochi naturalmente dovremo avere completato le preparazioni del colpo al casino quindi completiamo questa lavagna poi completate altra e avviamo il colpo il colpo dovete avviarlo con approccio l'imbroglio e dovrete avere le tute della buckstar quindi completate quelle preparazioni e invitati un vostro amico mi raccomando l'importante avere le tute della buckstar con approccio l'imbroglio quindi le selezioniamo e avviamo il colpo il nome del completo è l'insetticida quindi una volta avviato il colpo e saliamo fuori dalla nostra sala giochi apriamo il menu andiamo a sospetto andiamo a sospetto andiamo a sospetto andiamo a sospetto andiamo a premere il menu da destra per 40-50 secondi andiamo a sospetto andiamo a sospetto andiamo a sospetto per inattività. Quindi dite ai vostri amici ogni tanto di muoversi perché saremo noi che dovremmo venire cacciati per primi. Quindi una volta che esce questa scritta, premiamo X. Quando respawneremo in sessione, come vedrete, abbiamo il nostro Rab Reader Giallo. Ora potete modificare questo completo come volete. Il Rab Reader comunque non si può spostare su un altro outfit. E con questo è tutto. Ciao ciao!